Buonasera cari ascoltatori, bentornati a Radio Puggini On Air. Do un saluto a tutti i miei iscritti sul mio canale YouTube, mando tanti cuoricini, vi invito a lasciare nei commenti il vostro feedback. Anche stasera siamo qui per immergerci in un altro argomento, un dibattito animato che coinvolge il mondo dello spettacolo, della politica e la Chiesa. Oggi, 14 gennaio 2024, parleremo del recente intervento di Beppe Grillo riguardo alla partecipazione di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio sul 9, un intervento che c'è stato proprio poco fa sulla trasmissione che tutti conosciamo e che ora si è trasferita dalla RAI. sul canale 9. Papa Francesco ha accettato un nuovo invito perché è la seconda volta che è andato a questa trasmissione, un secondo invito a dialogare con Fazio, stavolta sul 9, aggiungendo un altro capitolo a questa collaborazione iniziata nel febbraio del 2022. Tuttavia, l'accettazione di questo invito ha scatenato una forte reazione da parte di Beppe Grillo. Grillo, ospite di Che Tempo Che Fa, solo poche settimane fa, ha espresso il suo dissenso riguardo alla decisione del Papa di partecipare nuovamente alla trasmissione. In un video di 5 minuti pubblicato su YouTube, che potete andare a vedere appunto sul canale ufficiale di Beppe Grillo, ha parlato di una chiesa in crisi, criticando la scelta di affidarsi ai mezzi di comunicazione che lui chiama miserabili. Subito le reazioni a quello che ha detto Grillo, tipo una è stata di dire che è interessante notare che Grillo sembra dimenticare la sua recente partecipazione alla stessa trasmissione, durante la quale ha utilizzato la visibilità per affrontare tematiche delicate come l'avvocato della presunta vittima di violenza sessuale del figlio Ciro. Subito qualcuno approfitta di questo video per attaccare Grillo, ma ogni volta che pubblica qualcosa che interviene Grillo non si vanno a leggere, ad ascoltare o a vedere i temi di cui parla, ma si utilizza soltanto per fare come sempre la becera politica che si legge tutti i giorni sui giornali, la propaganda che conosciamo benissimo. E' interessante notare che Grillo ha dichiarato che la Chiesa Cattolica è in crisi, paragonandola alla classe media. Ha accusato il Vaticano di affidarsi a medium miserabili, definendo addirittura miserabile il mezzo attraverso il quale si è esibito poche settimane fa la TV, come alcuni contestano. Grillo ha portato avanti il suo discorso analizzando la situazione del cattolicesimo in Europa e in Sud America sottolineando un presunto declino dovuto all'affidamento a mezzi di comunicazione ritenuti inadeguati. Io non condivido pienamente questa cosa, nel senso che non penso che il Papa vada in televisione perché la Chiesa è in crisi da ormai da diversi decenni direi. Forse il Papa va in televisione adesso perché, visto che ci sono, e in una televisione che non è la Rai, perché nella Rai c'è sempre la presenza di Papa Francesco, è come Fiorello o Amadeus, ma dicevo che il Papa forse in questo momento va in televisione, a mio avviso, è un punto di vista differente da quello di Grillo, perché col fatto che ci sia un governo composto da molti cattolici, cattolici anche di destra, quindi anche molto vicini a quelle idee che hanno portato i patti lateranensi ad essere stati sottoscritti, firmati, per cui forse, ma la mia è più una battuta, naturalmente è come se si ritrovasse un po' la strada adesso spianata, come se si trovasse legittimato anche lui ad usare tutte le forze per poter fare propaganda fidei in questo caso, piuttosto che la propaganda che in genere fanno i politici o altre persone che si sentono legittimate, magari come lui a fare la mano alzata, insomma i gesti fascisti, può comportarsi con gli altri anche in strada pubblicamente da fascisti, insomma forse è l'aria che si respira, forse è il decadimento verso il peggiore Medioevo che potevamo prevedere, che ha dato lo stimolo, l'entusiasmo anche al Papa per andare di nuovo in TV. Ma Grillo ha infine toccato il tema dei patti lateranensi esprimendo la necessità di rivedere tali accordi e suggerendo che la Chiesa dovrebbe avanzare e apportare modifiche alla sua struttura per adattarsi ai tempi moderni. Questo l'ultimo intervento di Grillo, che alcuni dicono sia teso ad ottenere visibilità, ma pone l'accento su tematiche rilevanti e solleva interrogativi sulla relazione tra la Chiesa e i mezzi di comunicazioni moderni e lo Stato. Dunque temi forse importanti, visto che essendo in uno Stato la cui Costituzione si dichiara che sia uno Stato laico, sarà pure ora di rivedere qualcosa e rendere reale questa cosa che è scritta sulla carta, sul tanto. Bene, noi ci riascoltiamo nella prossima puntata di Radio Pugginio NER. Vi aspetto, restate sintonizzati con Radio Pugginio NER, con il mio canale YouTube Marco Puggini e ascoltate la mia musica. A presto.